Benvenuti, quinta lezione del corso Tinkercad, nella lezione precedente abbiamo visto tutte le forme che il programma offre per poter costruire, per poter modellare in 3D degli oggetti. In questa lezione parleremo nello specifico delle forme, quindi importare forme, la differenza tra forme piene e forme vuote e una forma particolare che è quella della funzione Scribble. Allora, l'importazione delle forme in realtà l'abbiamo già vista nelle lezioni precedenti ed è molto molto semplice, basta scegliere la forma che si vuole importare, la forma che si preferisce e semplicemente con un clic del tasto sinistro del mouse trascinarla sul piano di lavoro. Considerate che il piano di lavoro, come vi dicevo nella lezione precedente, può essere impostato a varie dimensioni, quindi l'oggetto non deve per forza stare all'interno del piano di lavoro, può stare anche all'esterno. Chiaramente il piano di lavoro è un ottimo riferimento, soprattutto se la modellazione è finalizzata alla stampa 3D. Ok, allora, ma vediamo un attimo cosa succede quando si seleziona un oggetto. Quindi, selezionando un oggetto, vi faccio vedere la differenza, ecco, quando l'oggetto non è selezionato, come vedete, il piano di lavoro, naturalmente ve lo fa vedere, ma non avete nessun'altra finestra all'interno di questo spazio. Una volta selezionato l'oggetto, vedete qui sulla destra compare questa finestra che si chiama forma. Bene, la finestra forma vi permette di fare, o di modificare il vostro oggetto per alcuni parametri. La cosa più importante, la cosa più immediata, è la possibilità di scegliere se il vostro oggetto sarà un solido o un vuoto. Eccolo qui, vedete come cambia? Cambia il colore. Quando un oggetto è vuoto è trasparente, mettiamolo in primo piano, si vede meglio, eccolo qua. L'oggetto vuoto è trasparente, l'oggetto solido ha un colore, il colore può essere tranquillamente cambiato a seconda di quello che volete, addirittura è possibile anche personalizzarlo. Naturalmente questa è una cosa solamente grafica, nel momento in cui andrete a stampare un oggetto in 3D, il colore dipenderà dal filamento che utilizzerete in macchina, quindi lo possiamo lasciare rosso. Quello che potete fare all'interno della vostra finestra forma è quello di smussare, stondare gli angoli, quindi vedete il mio cubo variando dal valore raggio zero, quindi gli angoli perfettamente a 90 gradi, aumentando questo valore di raggio, eccolo qua, gli angoli cominciano a subire un effetto di curvatura. Bene, questo è uniforme su tutta la figura. Bene, naturalmente se porto questo valore all'eccesso, dal cubo ottengo una sfera. Naturalmente gli altri valori che posso variare sono valori legati alle dimensioni, quindi posso andare a variare una lunghezza rispetto alle altre, ma dopo vi farò vedere che esistono in realtà modi anche più semplici per ottenere lo stesso effetto. Ok, di base tutte le forme possono essere sia piene che vuote, quindi sul menu delle forme di base, Tinkercad come forme vuote vi dà solamente il cubo e il cilindro, mentre tutte le altre, eccole qua, vediamo se le vediamo 1, 2 e 3, tutte le altre, come potete vedere, sono considerate forme piene. In realtà ogni forma che voi importate all'interno del piano di lavoro, per esempio utilizziamo il tetto, eccolo qui, avete la possibilità di scegliere se considerarla come una forma piena o una forma vuota. Benissimo. Altra cosa che potete fare dalla finestra forma, quindi torniamo a selezionare un oggetto, è il blocco delle modifiche, quindi una volta che è stato chiuso l'icona, vedete, vi spariscono tutti i valori sottostanti. Bene, potete solamente scegliere l'oggetto pieno o vuoto, ma non potete più andare a interagire con tutti questi valori che invece vi ho fatto vedere prima. Bene, per cui blocca modifiche, la forma rimane delle dimensioni in cui si trova in quel momento e si può solamente decidere se è una forma piena o una forma vuota. Cosa utile, soprattutto su progetti complessi che magari contengono più oggetti su cui lavorate indipendentemente, è la possibilità di nascondere. Ecco qua, vedete? Se cliccate sulla lampadina sparisce l'oggetto selezionato. Proviamo con l'altro. Clicco sulla lampadina e l'oggetto sparisce. Se volete, cliccando sulla lampadina, che qui diventa nera quando ci sono degli oggetti spariti, torna tutto visibile. Per chi ama le scorciatoie da tastiera, passando con la freccia sopra l'icona, vedete che con CTRL più H ottenete esattamente il solito risultato. vi faccio vedere. La mia freccia è qua, provo da tastiera, CTRL H, eccolo qua, è sparito il mio oggetto. Una volta che è sparito l'oggetto, vedete? Si è annerito l'icona, quindi è venuta in rilievo, l'icona della lampadina. Solito discorso, scorciatoie da tastiera, CTRL maiuscolo sotto l'altra e torna visibile. Riecco il mio cubo. Bene, questo naturalmente se si lavora con 3, 4, 5 forme è una funzione che possiamo tralasciare. Quando invece abbiamo progetti molto complessi con più parti che magari andranno assemblate solo dopo la stampa, può essere utile per concentrarsi su un gruppo alla volta e, diciamo, tenere un po' più pulito il piano di lavoro. Oltre alle forme base, quindi andiamo a ripulire il nostro piano di lavoro, quindi seleziono tutto, vedete, con la scorciatoia vi faceva vedere le lezioni precedenti, quindi se volete selezionare tutto, con il tasto sinistro del mouse potete cliccare un punto e trascinare una finestra di selezione. Eccolo qua. Tutto quello che è all'interno della finestra di selezione viene automaticamente riconosciuto. In questo caso elimino. oltre alle forme, dicevo, geometriche, ci sono all'interno del menu forme base due funzioni che possono essere molto utili. La funzione scribble e la funzione text. Allora, iniziamo da scribble. La funzione scribble, per importarla, è sempre con la solita modalità, quindi cliccate e lo trascinate. Una volta rilasciato, vedete che scompare il vostro piano di lavoro. In realtà non scompare, ce l'avete qui in preview. Quello che vedete però è il piano di lavoro in visione 2D. Quindi perdete la dimensione dell'altezza. Perché? Perché lo scribble vi dà la possibilità di disegnare a mano libera e tutto ciò che voi disegnate viene estruso, eccolo qua. Con uno spessore, che è lo spessore che viene disegnato. Bene. Potete, c'è la possibilità di scegliere, diciamo, tra disegno a matita, quindi la possibilità di creare linee, piuttosto che la possibilità di creare aree, quindi solidi fondamentalmente pieni e vuoti. Bene. Ecco. Ora io più o meno ho dato una forma. E vedete in preview la differenza. Bene. Ve la faccio rivedere meglio. Per cancellare, solito discorso, avete la gomma. La gomma può essere o simile alla matita, quindi vi seleziona l'area che volete cancellare. Una volta che rilasciate, vi ha cancellato tutto. Oppure, solito discorso, con il poligono. Quindi se voglio cancellare un'area ampia, molto più comodo rifulire il piatto. In realtà c'era forse molto più veloce anche il pulsante Clear. Ok? Quindi vi faccio rivedere. Diciamo che inserisco una forma qualsiasi. Non è la forma che volevo, la voglio modificare per ripulire il piano con Clear. È molto più veloce. Due possibilità, quindi per ricapitolare, due possibilità di disegno a mano libera. O con la matita e quindi vi create forme dove la parte estrusa, la parte in rilievo è ciò che disegnate, quindi sostanzialmente sono dei contorni vuoti all'interno. Oppure con la funzione poligono e quindi quello che andate a costruire è un poligono o una forma piena. Questa sembra quasi un dente, se guardate. Perfetto. Solito discorso con la gomma. Se io qui dentro voglio creare un vuoto, posso andare a selezionare con la gomma la parte interna e il programma in automatico mi svuoterà. Eccolo qua. Vedete? Quello che io ho cancellato. Una volta che il disegno è a posto, siete soddisfatti del vostro disegno, cliccate sul tasto Done e ve lo ritrovate nel piano di lavoro. Ecco qui, esattamente quello che abbiamo disegnato. Queste sono forme a tutti gli effetti. Ora sono una forma unica, perché le ho disegnate insieme. Se avessi voluto due forme divise, avrei dovuto disegnare prima una e poi l'altra. Questa, avete la possibilità di scegliere se sono forme piene o forme vuote, come tutte le altre. Torniamo alla forma piena. Avete la possibilità di decidere l'altezza delle vostre forme. Oppure potete tornare a editarle. Quindi Edit e tornate al punto di partenza. E qui possiamo decidere. Voglio una forma alla volta, quindi questa per ora me la cancello. Eccolo qua. E tengo ferma solo questa. Bene, questa è una funzione molto utile o molto bellina, insomma, anche per lavorare spesso con i ragazzi, perché possono creare forme anche complesse, forme anche disegni, per esempio, direttamente nella funzione Scribble e ottenere senza grossi problemi il 3D pronto da stampare. Bene, allora, cancelliamo la forma creata con Scribble e vediamo la funzione Text, che in realtà è molto simile. La funzione Text, come dice il nome, serve a scrivere velocemente un testo. Quindi, una volta importata la forma, solito discorso, forma piena, forma vuota. Eccolo qua. Se lo aprite, nella prima riga dove c'è la casella Testo, voi avete la possibilità di scrivere. Quindi, con la tastiera, vedete, ho cancellato, una lettera ve la lascia sempre, e ci posso scrivere quello che voglio. Classico, ciao. Quindi, se non avete restrizioni, chiaramente potete scrivere testi non poemi, però, insomma, anche testi abbastanza lunghi, o comunque parole lunghe, poi magari se dovete scrivere frasi vi conviene importare più di una forma e andare a scrivere parola per parola. Avete la possibilità di scegliere alcuni font, quindi Sans, Sans Mono, vedete Serif, non tantissimi, e chiaramente questo è una funzione base. Quello che, su cui secondo me dovete un attimo stare attenti, se poi quello che scrivete volete renderlo fisico, quindi volete andare a stamparlo, è che queste lettere, in questo momento, sono tutte separate una dall'altra, anche il puntino della I. Quindi, quando le andrete a stampare e le andrete a staccare dalla macchina, considerate che saranno tutte lettere separate una dall'altra. Questo può essere comodo per comporre le scritte come volete, se invece avete bisogno di una scritta che non si muove, quindi una scritta solidale, con le lettere solidali una all'altro, lo scopriamo tra un paio di lezioni. Bene, quindi, con questo chiudiamo questa lezione e vi aspetto alla prossima. Grazie mille.